La questione non è solo la difesa rispetto al Po, ma è anche la valorizzazione del Po, sia dal punto di vista della navigazione, sia dal punto di vista turistico. Dal punto di vista originale, la questione ovviamente di problemi ce ne sono ancora, ma negli anni si sono fatti interventi molto importanti. Adesso direi che si apre una seconda fase, almeno per alcune parti del territorio, in particolare per il Piemonte, e cioè gli interventi di laminazione, molto delicati, ma direi risolutivi. Il nostro è un territorio fragile, l'Italia in generale, siamo nel Delta, siamo a Ferrara. Il Po, che è una delle più grandi infrastrutture blu, quindi importante da tanti punti di vista, ha un'esigenza di attenzione costante e continua. Anche una manutenzione e una gestione ordinaria di queste infrastrutture, tanto più quando ci sono rischi importanti per un territorio come quello che è la pianura padana, quindi ricco di popolazione e di attività, è fondamentale lavorare sulla gestione di queste infrastrutture. Emerge da questo studio una necessità di aumentare la resilienza del nostro fiume, quindi delle sue arginature, aumentare quindi la sicurezza delle comunità che lo abitano, costruire delle risposte di fronte al cambiamento climatico, che ci dice che serve raddoppiare la sicurezza e serve costruire una progettualità. È uno studio che ci consente di ragionare con il governo per costruire e proporre un progetto speciale. È una giornata molto importante di verifica, di studio, di programmazione e di progettazione. È una prospettiva di investimento di Regione Lombardia e di valutazione assolutamente preminente per la salvaguardia della popolazione, ma anche per la valorizzazione del fiume Po. Noi riteniamo che il fiume Po per tutto il sistema Italia sia un qualcosa di fondamentale. Penso che sia anche in chiave macro-regionale giunto il momento di porre l'asta del Po come anche valutazione di sviluppo di un'intera area, anche da un punto di vista turistico, da un punto di vista di valorizzazione ambientale.